Monstera Monstera è una pianta che per vivere ha bisogno di luce. Per questo la foresta amazonica è il suo ambiente naturale. Ci siamo ispirati a lei per la nostra installazione. Con Monstera abbiamo voluto creare un paesaggio urbano e naturale dominato da luce e colore. Abbiamo interpretato le forme della natura dando loro nuove geometrie, prospettive e texture. Material Digi Mosaic ci ha permesso luminosità e movimento. Un paesaggio che incrocia vita organica e tecnologia. Con Monstera abbiamo creato molto più di un stand. Abbiamo voluto realizzare una installazione utilizzando la tecnologia Backlight su Mosaico. Monstera è stata una grande sfida per noi e Digi Mosaic. Per la nostra capacità creativa e la loro capacità tecnologica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.